ragazzi buongiorno volevo dirvi che comunque è tutto a posto la Juve stiamo bene ci stiamo vedendo la Juve come ho detto fin quando non ci sarà un nuovo allenatore io porterò pochi video perché giustamente non c'è niente da parlare sempre le stesse cose anzi mi meraviglio di voi che andate a seguire ancora la gente che dice sempre le stesse cose sempre le stesse cose detto questo la Juve è questa che è quella che è aspettiamo sta finale speriamo di vincere la sto facendo questo video per aggiornarvi che è tutto a posto e che ogni tanto bisogna fare dei video se no perdiamo la monetizzazione perché youtube fa stelle con le ruote andando mette la lavatrice siamo appena tornati dal lavoro tutto a posto l'importante è che si fatica poi tutto quello che viene in più ce lo prendiamo no sbaglio si lavora la salute per adesso è tutta a posto ogni tanto ci imbriacamo sabato a sei ora ci mettiamo una bella lavatrice la Juve è quella che è la Juve è quella che abbiamo visto ieri anche se ieri giustamente è stata una bella partita perché poi le squadre si sono sbilanciate no le squadre si sono divertite è stata veramente una bella partita ieri peccato per il risultato perché la Juve poteva vincere si è mangiato un paio di occasioni pure la Roma si è mangiato qualche occasione potevamo vincere sia noi che loro però tutto sommato ci sta ci sta detto questo non si sa che è l'allenatore l'anno prossimo non si sa chi sarà chi non sarà chi dice conte chi dice il contrario chi dice quello chi dice quell'altro questa è questa vai Juve io vi saluto siamo sempre qua cercherò di portarvi più video mi viene l'estate qualche partitina qualche qualche gita al mare qualche trasferta l'anno prossimo sicuramente la porteremo vai Juve vi voglio bene e fino alla fine sempre forza Juve ciao bene